Questo appello è un comodo di fiducia verso i giovani e per esempio l'anno scorso Anken ha vinto il premio Nobel per la pace quindi i giovani proprio hanno il potere di divulgare dei messaggi e soprattutto quello di non arrendersi naturalmente nella vita accadono tante cose che spingono a rassegnarsi, ad arrendersi però i giovani hanno questa forza interiore di poter superare qualsiasi difficoltà noi crediamo in questa energia dei giovani, in questo potere dei giovani quindi attraverso questa energia dei giovani noi desideriamo cambiare il mondo noi crediamo in questo potere dei giovani quindi la speranza è proprio rappresentata dai giovani, dai nostri giovani questi giovani che hanno la forza, hanno il potere nelle loro vite questo è il contenuto del nostro appello